Il virus del Nilo è arrivato anche a Piacenza. La guardia resta alta ma per il momento non c'è nessun allarme. I piacentini possono stare tranquilli come tutti gli altri abitanti d'Italia. Il rischio è venuto perché la nostra zanzara ha imparato a fare da vettore al virus del West Nile, del Ovest del Nilo. Questo virus è nuovo per noi, nuovo per noi a Piacenza. Di fatto non è molto probabile che una persona che gira per Piacenza e provincia possa prendere la malattia nella sua forma più grave che è l'encefalite o la meningoencefalite. La maggior parte delle punture di zanzare, delle nostre zanzare, continuano a essere fastidiose. L'unica cosa che mi sento di dire è che stiamo un pochino più attenti a non farci pungere. Non che questo significhi che adesso devo chiudermi in casa, non possiamo uscire, assolutamente no. Sono già stati 130 i controlli sugli uccelli effettuati dall'As di Piacenza da maggio a oggi. Il virus del Nilo non arriva con le persone ma arriva con gli uccelli selvatici, migratori, che stando qui vengono punti dalle zanzare che poi ritrasmettono il virus ad uccelli selvatici stanziali. Infatti nel monitoraggio lo facciamo sulle cornacche, non possiamo farlo sugli uccelli migratori che sono protetti almeno che non ne troviamo degli esemplari morti. Noi non abbiamo ancora avuto casi in equini come non ci sono stati i casi umani. È una situazione di attenzione e quindi noi raccomandiamo ai comuni e ai cittadini di applicare meglio quello che già viene raccomandato da anni per la lotta alla zanzara tigre.